Che cosa avete sognato per Malika? Abbiamo sognato, sul suggerimento di Ruggero, una polisportiva che cercasse di racchiudere più sport possibili, tra quali calcio, tennis, basket, e una realtà scolastica, proprio per dare una speranza e una possibilità a questi bambini che purtroppo non sono fortunati come noi. 13 edifici scolastici, strutture sportive e una tribuna spogliatoi. Chi ti ha aiutato nella realizzazione di questo progetto? Allora, siamo un gruppo di ex compagni, ormai colleghi di università. Ognuno di noi ha le proprie competenze e ognuno ha messo il suo nella realizzazione di questo progetto, di questo sogno ancora. Quali soluzioni progettuali avete immaginato perché sia qualcosa che si integri perfettamente col paesaggio locale? Allora, abbiamo voluto utilizzare materiali locali proprio per dare la possibilità alle persone del luogo di lavorare e di dare una mano alla realizzazione. A noi interessa che i bambini vadano principalmente a scuola, perché giocare si può giocare ovunque, studiare no, studiare ci vogliono a scuola. Il sostegno può avvenire in tanti modi. Qualcuno di questo gruppo è uno sponsor diretto perché coopera direttamente con la realizzazione del progetto, con lo studio del progetto, con anche la costituzione dell'associazione che è venuta in tempi lunghi grazie alla nostra burocrazia. La quota sociale, come tutte le associazioni no profit, è una quota di 30 euro annuali che uno può, mettendosi in contatto con noi, venire a versare direttamente piuttosto che adesso quando avremo disponibili anche i dati bancari farlo tramite bonifico. La forma di continuità serve per il mantenimento delle strutture una volta che vengono realizzate e inizialmente serve anche per poter cominciare. Quindi queste sono le due piccole forme iniziali. Io vorrei, spero, aprire il cuore delle squadre calcioprofessionistiche perché vengono tra virgolette sempre attichettate solo col fatto che buttano via soldi da tutte le parti, pagando giocatori, facendo cifre astronomiche. Noi chiediamo delle piccole cifre. Vorrei che queste squadre si comprassero un'aula.